Ciao a tutti vediamo come creare un account Nike sull'applicazione per Android ci basta scaricare l'applicazione Nike una volta che siamo dentro se non abbiamo l'account c'è proprio il pulsante iscriviti ci chiederà all'inizio di inserire un'email quindi inseriamo l'email con cui vogliamo iscriverci facciamo avanti subito dopo ci manderà alla schermata in cui dobbiamo inserire nome, cognome, password e data di nascita appena abbiamo finito inseriamo anche il codice che abbiamo ricevuto via mail e confermiamo accettiamo le condizioni d'uso, togliete eventualmente la spunta per le comunicazioni di marketing fate avanti e adesso l'account è stato creato semplicemente abbiamo un altro passaggio da fare se vogliamo che è quello della personalizzazione quindi possiamo inserire se siamo uomo, donna, se siamo dei ragazzi quali sono i brand di Nike che ci interessano tipo running, piuttosto che nuoto, basket eccetera eccetera e poi eventualmente se vogliamo mettere il nostro numero di scarpe scegliete o meno se condividere altri dati con Nike io di solito faccio sempre no dopo che avete fatto salvate e il vostro account è stato effettivamente creato con anche le vostre dati di personalizzazione e siete dentro Nike ecco qua, se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento ciao ciao